Vuoi realmente guadagnare online? Allora devi isolarti come un monaco, almeno all'inizio, ed è la cosa che ho fatto io quando ho iniziato ad aprire il mio primo business online, ed è l'unica cosa tra le mille che ho provato che realmente ha funzionato. Ti prometto che se arriverai fino alla fine del video capirai cosa vuol dire isolarti come un monaco, capirai perché può essere utile alla tua situazione, al tuo business o per qualsiasi obiettivo tu abbia, e ti prometto tutto questo perché ti darò effettivamente dei consigli pratici che se applicherai riuscirai realmente a cambiare la tua situazione attuale. Ma prima mi presento, sono Bramf, aiuto imprenditori o aspiranti tali a guadagnare di più online in maniera prevedibile e concreta. Se vuoi vedere più video dove non si dà la priorità all'intrattenimento, ma si dà la priorità al valore delle informazioni, allora vuoi iscriverti al canale e attivare le notifiche. Tempo fa, quando ancora non guadagnavo online, non avevo un'entrata, non avevo la partita IVA nemmeno, cercavo di creare un business appunto per riuscire a guadagnare qualcosa, per riuscire a crearmi un'indipendenza, per riuscire comunque a permettermi quello che volevo. Cioè non mi piaceva entrare in negozio, trovare un oggetto che mi interessava, che mi era utile anche al mio lavoro, a quello che facevo e dover aspettare magari un mese per poterlo comprare, perché dovevo pensarci, perché non avevo la disponibilità economica. Mi dava fastidio dipendere dai miei genitori, ero ancora piccolo perché io ho iniziato davvero davvero in giovane età. E mi ricordo che mi è sempre dato fastidio dipendere dai miei genitori, anche perché non vivo in una famiglia proprio benestante diciamo, ma vivo in una famiglia normalissima, per intenderci l'iPhone non poteva nemmeno esistere a casa mia, perché se ne andava uno stipendio e forse pure di più. Quindi ho avuto sempre questo desiderio di fare i soldi, di guadagnare, di riuscire a essere indipendente, anche per crearmi un futuro e garantire alla mia futura famiglia tutto quello di cui aveva bisogno, ma proprio tutto. Quindi provavo, provavo, provavo e riprovavo a guadagnare online, a provare quel metodo, poi dopo un mese mollavo, no non andava bene. Dropshipping, Affiliate Marketing, Amazon FBA, Kindle Publishing, li ho provati veramente, ma veramente tutti i modelli di business, ma non riuscivo realmente mai a guadagnare online. Ho iniziato a capire che esistono dei corsi, delle persone che vendono dei corsi su come fare determinati business, ho speso soldi, miei risparmi duramente guadagnati negli anni e comunque non riuscivo ad avere risultati. Nel frattempo però continuavo a uscire con i miei amici, continuavo a usare Whatsapp, continuavo a usare i social media e un bel giorno mi sono imbattuto in un libro dove si spiegava la forte influenza che hanno le persone che frequenti il tuo circolo, le persone che vedi di più nella tua vita. Questo libro mi ha fatto fare un click nella mente e ho iniziato a capire, ma non è che forse non riesco ad andare avanti, non solo perché non ho disciplina, ma perché tutte le persone vicine a me non hanno disciplina. E se io continuo a uscire con loro sarà una persona senza disciplina. Cioè se tutti i miei amici fumano, io non dovrò fumare per forza, ovviamente ci sono persone che stanno in mezzo a gruppi dove fumano per anni e anni e non iniziano a fumare, ma al 99% dei casi se tu stai con i fumatori inizierai a fumare, anche quando hai un momento di debolezza, magari quando sei cosciente, no, perché i tuoi paradigmi, il tuo subconscio, il tuo conscio ti dicono no, non devi fumare, ma in un momento di debolezza dirai vabbò dai passami sta sigaretta, vabbò dai passami sta canna e inizierai a fumare. Invece in un gruppo dove nessuno fuma, anche in un momento di debolezza non ti può mai venire in mente di fumare perché nessuno sta fumando, non puoi manco dire passami la sigaretta. Quindi inizio a capire questo concetto, inizio ad eliminare il mio ego che mi dice no, io non sono influenzabile, io comando la mia vita. Inizio a capire che non è proprio così, che io non comando nulla, a meno che non ci lavoro su tanto, 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 tanto tempo, e che tutto quello che penso, tutto quello che mi è stato insegnato, tutto quello che sono io adesso è frutto dell'ambiente di mille variabili. Appena ho eliminato quella parte del mio ego e ho iniziato a pensarla in questo modo, sono riuscito a limitare le uscite, sono riuscito a limitare l'uso dei social, sono riuscito a limitare i gruppi whatsapp, sono uscito da tutti i gruppi, eccetera, eccetera, eccetera. E guarda caso, già dal primo mese ho iniziato a guadagnare online, il secondo il guadagno andava a crescere, terzo, quarto e quinto non ti sto nemmeno a dire. Mi sono isolato, innanzitutto voglio eliminare dal tuo cervello delle credenze che hai. Senza soldi non sei libero, ripeto senza soldi non sei libero. Pensare solo al business, focalizzarsi e isolarsi da tutti non è un male. Chi ti dice il contrario è una persona povera o è una persona che non ha nulla nella sua vita. E cerca di applicare agli altri le sue leggi perché vuole che gli altri siano come lui, perché non gli piace essere superato. A nessuno piace essere superato, tutti cercano di buttarti giù. Perché quando si vedono superati si sentono male con loro stessi che non riescono a fare lo stesso sforzo, le stesse fatiche che fai tu e quindi vogliono che nemmeno tu le faccia. Non solo l'ossessione verso i soldi, verso il business non è male, ma ho notato che solo chi si ossessiona riesce realmente a farli. E attenzione, l'ossessione dei soldi, del guadagnare i soldi non vuol dire essere taccagni, non spenderli eccetera eccetera, non donare. Perché è molto importante. Non dico che devi accumulare, accumulare, accumulare e non spendere mai. Quella non è ossessione dei soldi, quello è veramente il male incarnato. Ma se tu sei ossessionato dal fare i soldi perché ti piace, perché riesci a sviluppare un amore verso quello che fai e non verso i soldi, allora riuscirai a fare quello che devi fare per fare i soldi senza molta fatica. E poi una volta che avrai i soldi ovviamente devi donare, devi aiutare gli altri, devi spenderli eccetera eccetera. Ovviamente anche metterli da parte, investire e tutte queste cose che sappiamo bene. L'ossessione dei soldi viene vista male solo perché si parla dei soldi. Ma per esempio l'ossessione a uno sport non viene vista mai male, pensa agli olimpionici. Quelli che vanno agli olimpiadi e vincono la medaglia d'oro, si allenano dieci ore al giorno, non fanno nient'altro oltre che allenarsi per anni, anni e anni. Poi vincono la medaglia d'oro, vengono acclamati da tutti. Nessuno dice ah guarda quello là che sei ossessionato al nuoto, è un pazzo. Però se ti ossessioni al business non esci, ti alleni, alleni tra virgolette dieci ore al giorno, quindi lavori dieci ore al giorno, lavori dodici, tredici, quindici ore al giorno. Non esci mai, non esci più ah è un pazzo, si è isolato e i soldi li stanno andando alla testa, non sono le cose importanti nella vita. Ma cosa sta facendo? Ma perché non viene a bersi una birra con noi al bar? Tutte cazzate, tutte stronzate che non dovete sentire, tutte le persone vorrebbero fare quello che fai tu, semplicemente non hanno la disciplina per farlo. Quindi se ti isoli e lavori sedici ore al giorno, in realtà tutte, tutte le persone con cui uscivi vorrebbero farlo. Ma tutte le persone con cui uscivi ti criticheranno perché non sanno farlo. E chi non ti critica, chi pensi che no, ti supporta, bla bla bla. Molte volte non è vero, molte volte non dice niente, molte volte te lo fa pesare in maniera inconscia. Al 99% dei casi cercano di distruggerti la vita. E te lo dico perché se tu sei di un livello basso, tipo metti caso che i livelli della tua persona vanno da 0 a 100. Ok, tu sei livello 20. Le persone di livello 30 vogliono uscire solo con persone di livello 30 e superiore. Quindi tu non uscirai mai con persone di livello 30. Se tu sei livello 20 vuol dire che stai uscendo con persone di livello 20 o se sei stupido di livello inferiore. Ma al massimo di livello 20 non ci saranno delle persone. Sì, magari ci può essere una persona di livello 30 che è un po' stupida e quindi continua ad uscire con te, ma piano piano andrà a perdersi. Questo livello va a rappresentare, diciamo, il livello di salute fisica, salute mentale, ambizioni eccetera eccetera che ogni persona ha. Quindi se tu sei di livello 20 e riconosci che sei di livello 20, tu avrai solo persone di livello 20 accanto a te. E le persone di livello 20 non possono sperare del bene per te, se no sarebbero di livello più alto e quindi tu non potresti uscirci. Non so se mi sono spiegato, questo concetto è molto importante. Se non l'hai capito vai indietro di due minuti e riascolta. E se non hai soldi, tu non scegli un cazzo, non scegli nulla, non scegli quando sei libero, non scegli dove vivere, non scegli cosa mangiare. Ma come, come Bram, io vado al supermercato e scelgo quello che voglio. No, non è vero. Perché se devi prendere il latte, però guadagni 1000 euro al mese, non prenderai il latte che costa 8 euro, spettacolare, munto questa mattina nella bottiglia di vetro, bla 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 bla. Ma prenderai il latte da un euro, quello che è, non mi correlate. Comunque un'azienda grossa che sì, tutto il bene del mondo, ma non è il latte, cioè non è il latte. Sarà lavorato a alte temperature, gli hanno tolto quello, quell'altro, cioè non avrà nutrienti, tu stai mangiando la merda semplicemente perché non hai soldi per mangiare le cose buone. Se vai al ristorante, ti siedi, guardi il menù, però tu hai un budget di 50 euro massimo, non ti puoi prendere il primo da 50 euro. Perché devi bere, devi pagare il coperto, magari ti vuoi prendere un secondo, magari ti vuoi prendere un dolce, magari c'è la tua ragazza accanto a te. Quindi che dovete fare? O non la porti proprio al ristorante, la porti al McDonald's, oppure dovete adattarvi a quello che il ristorante vuole, che voi mangiate in base ai soldi che avete. Dal momento che uno inizia a guadagnare, non dico 10.000, ma 20-30.000 euro al mese, tu ti siedi al ristorante, qualsiasi ristorante esso sia, puoi mangiare il cazzo che vuoi. Cioè, anche se vai da bottura, anche se vai in un ristorante stellato, comunque, quanto può costare il menù degustazione? 300-400 euro, più il menù degustazione dei vini, altri 400 euro. 800 euro a persona, fai 800 euro per due, sono 1.600, tu spendi per una cena 1.600 euro, ma tanto ne guadagni 30.000 al mese, li puoi tranquillamente spendere senza che ti pesino più di tanto. Ovviamente, se vai ogni giorno da bottura, è ovvio che non puoi, nemmeno con 30.000, là devi avere 100-150.000 euro al mese di netto, di profitto, che ti entra liquido in tasca. E già è un livello un po' più difficile da raggiungere. E ammetto, io non ci sono ancora arrivato e sto provando ad arrivarci. Quindi, distrutta questa cosa, che i soldi sono il bene, ti rendono libero, effettivamente, e non devi andare a dire o a sentire quelli che dicono, no, ma sai, no, il business, non ti ossessionare. No, ossessionati. L'isolamento, quindi, è l'unico modo per ottenere il successo. Poiché tutte le persone, come abbiamo detto, tutti i tuoi amici, tutti quelli che frequenti, sono al tuo stesso livello, allora, per salire di livello, devi frequentare persone di un livello superiore. Ma le persone di un livello superiore non vogliono frequentarti perché sei del livello inferiore a loro, e quindi, per forza di cose, per salire di livello, devi isolarti, dato che sei la media delle 5 persone che frequenti di più. Quindi hai 5 tuoi amici, i tuoi 5 migliori amici, le 5 persone che frequenti di più, che sono di livello 20, magari qualcuno è di livello 25, eccetera, eccetera, la media tra di loro, comunque, è 20, tu sarai di livello 20. Fine, non c'è, non c'è, cazzi, non c'è niente che regga, no, ma io non mi faccio influenzare. No, semplicemente non hai capito che ti fai influenzare, l'unica cosa che può differenziare te da me. Io capisco che mi posso fare influenzare, tu pensi di no, ma in realtà sì. Per questo l'isolamento è l'unico modo per raggiungere i tuoi obiettivi, almeno nella prima fase, perché se tu adesso sei in una fase dove hai tutti questi tuoi amici che anche inconsciamente magari non ti dicono no, non fare, bla bla bla, no, però inconsciamente ti fanno capire che non è giusto quello che stai facendo. Se tu hai tutti questi amici così, devi isolarti, poi una volta arrivato a 10, 15, 20, 30 mila euro al mese, magari vai a vivere a Dubai, magari vai a vivere in un altro posto, tu per forza di cose incontrai persone del tuo stesso livello. A quel punto sì, puoi uscire qualche volta, eccetera, eccetera, ma se sei alle fasi iniziali non puoi pretendere di uscire ogni giorno, ogni sera, ubriacarti, cose così, e arrivare al tuo obiettivo. Se così fosse tutti sarebbero milionari, tutti sarebbero ricchi, ma non è così. Inoltre isolandoti riuscirai a immergerti al 100% nei tuoi obiettivi con deep focus, con focus super profondo. Quindi per immergerti al 100% nei tuoi obiettivi devi sviluppare appunto questo deep focus, in maniera da concentrarti e di avere un macro focus e un micro focus. Il macro focus sarebbe l'obiettivo finale che hai tra uno o due anni, il micro focus sarebbe fare il lavoro ogni giorno che devi fare per arrivare all'obiettivo finale. Quindi micro focus vuol dire concentrazione, quindi per otto ore riesci a non toccare il cellulare, eccetera, eccetera, riesci a lavorare, lavorare, lavorare. E ti garantisco che già se lavori un'ora in deep focus, senza distrazioni, hai lavorato come otto, dieci ore delle altre persone. Perché altre persone che lavorano dieci ore in realtà stanno lavorando un'ora perché si distraggono per il 90% del tempo. È così e non sto esagerando. Cioè se tu realmente per un'ora lavori con focus totale, tu stai battendo tutte le altre persone. Quindi tu lavorando otto ore in realtà stai facendo il lavoro che gli altri farebbero in 80. Cioè capisci quanto il deep focus possa essere una leva per far sì che il tuo business cresca a dismisura. Oltre a questo appunto, come ho detto, devi immergerti nei tuoi obiettivi. Quindi creati uno studio, un ambiente ottimizzato dove ti metti dei fogli, dei poster con scritti i tuoi obiettivi. Magari se il tuo sogno, faccio l'esempio, andare a Dubai a vivere su un attico, metti la foto di Dubai. Se il tuo sogno è andare a vivere a Miami, mettiti la foto di Miami. Fai sì che il tuo ambiente, quando tu entri nel tuo ufficio, dica cazzo devo lavorare. È per questo che sto lavorando. Poi mettiti nei muri gli obiettivi. Per esempio, arrivare a un milione di iscritti sul canale YouTube. Scrivitelo. Fai sì che il tuo ambiente ti costringa, tra virgolette, a lavorare. Oltre questo, ultimo consiglio che ti do per questo video è consumare contenuti inerenti al tuo obiettivo. Vuoi arrivare a 10.000 euro al mese, 30.000 euro al mese, guarda video di business, guarda video di imprenditori che ce l'hanno fatta, guarda interviste, guarda vari materiali in varie lingue. Cioè, immergiti completamente nel tuo obiettivo ed è questo che cambierà i tuoi preconcetti, le tue credenze false che hai nel subconscio in maniera da arrivare effettivamente al tuo obiettivo. L'immersione totale. E devi farlo anche perché, se è vero che sei la media delle 5 persone che stai frequentando, sei anche la media dei 5 contenuti che consumi di più. Quindi se ti guardi una serie tv su Netflix e non c'entra un cazzo col tuo obiettivo, ti guardi gli anime, ti leggi manga, guardi i film e poi guardi pure dei video di Bramf, per esempio, la media di queste 5 cose non è di certo un uomo milionario. Se tu invece guardi interviste a milionari, i miei video, i video di qualche altro youtuber di business che parla di marketing, ti guardi un documentario su come è stata costruita quell'azienda, su come le banche sono blablabla, comunque cose inerenti al tuo obiettivo, la media di queste 5 cose potrebbe costruire un possibile milionario perché l'immersione è assurda come metodo per riprogrammare la tua mente. Ovviamente l'obiettivo è non consumare troppi contenuti, ma questi sono consigli per chi inizia, vuole iniziare. Se inizi va bene consumare tanti contenuti di business inerenti al business perché hai smesso di uscire con i tuoi amici, hai smesso di frequentare persone che fanno solo del danno ai tuoi obiettivi e l'unico modo che hai magari per intrattenerti deve essere video su video, contenuti, podcast inerenti al business. Idealmente quando sarai un imprenditore di successo non devi fare questa cosa perché semplicemente si devi continuare a informarti ma sono meglio i libri come fonte di informazione piuttosto che i video eccetera eccetera. Detto questo, penso che questo video ti abbia svoltato la vita e se sei arrivato fino a questo punto lo pensi anche tu altrimenti avresti chiuso prima. E nel video che sta apparendo a schermo in questo momento potrai trovare consigli cruciali per il tuo business. Quindi vai a guardarlo, mi raccomando.